Dottoressa Gringa, capo della Polizia Stradale di Terni, oggi la giornata regionale della sicurezza stradale. Quanto è importante per le scuole sapere come si agisce in determinate circostanze? Il nostro compito è arrivare prima con la prevenzione in tutte le scuole, dalle scuole dai bambini più piccoli fino all'università, anche alle persone anziane. Bisogna arrivare prima, bisogna fare prevenzione, però purtroppo quando succede un incidente stradale la gente deve sapere come si deve comportare per evitare che si creino più danni alle persone coinvolte. Facciamo vedere una simulazione di un incidente stradale, dalle comunicazioni iniziali ai mezzi di soccorso, come intervengono i mezzi di soccorso e come vengono rilevati gli incidenti. Questi sono i comportamenti corretti da adottare sulla strada. Un lavoro congiunto, un lavoro di equipe, ma il lavoro di squadra con la sinergia, forze dell'ordine, vigili del fuoco e soccorso sanitario rende sì possibile che l'intervento abbia una, dia una chance ai pazienti. In questo caso c'erano due. Successivamente un altro mezzo di contenimento è sicuramente il dispositivo dell'Airbag che aumenta le capacità di sopravvivenza del ferito. Pertanto prevenzione inizia dall'indossare correttamente i presidi. Mi raccomando, le cinture che siano ben allacciate, la mortalità dei bimbi in età pediatrica aumenta nei piccoli tragitti, signori. Sotto ai tre chilometri di raggio ci sono gli incidenti mortali più importanti.